Un permesso a costruire chiesto nel 2011 e concesso nel 2014. Nello stesso periodo l'amministrazione Magrone scopre il presunto sacco edilizio e a Modugno in via cautelativa si bloccano le concessioni in attesa di riscrivere le norme tecniche al piano regolatore. Quelle del 99 infatti non avrebbero contenuto la parola variante. Per l'amministrazione comunale e per la regione Puglia erano valide vigenti quelle del 1995. Gli imprenditori non stanno a guardare ricorrono al Tare il tribunale amministrativo regionale di Bari per chiedere la sospensione dell'ordinanza ma la richiesta la prima il 3 settembre scorso viene respinta perché la sospensione sarebbe scaduta il 18 settembre. A questo punto la domanda costruire secondo le norme applicate fino al 2014 quindi del 1999 oppure quelle del 95 non ci sarebbe stata nessuna risposta e così l'imprenditore avrebbe protocollato all'ufficio tecnico del comune di Modugno l'inizio dei lavori. Ieri la mara sorpresa l'ennesimo stop con tanto di diffida nei confronti della proprietaria, dell'immobile, del progettista e dell'impresidile che avrebbero dovute seguire i lavori. Il commissario ha rimandato la discussione al prossimo 30 settembre quando si terrà la conferenza di servizi per discutere di tre proposte quella dell'ex sindaco Nicola Magrone del Partito Democratico e dell'ex consigliere di maggioranza Pietro De Benedictis.